Eccoci, buongiorno a tutti. Oggi la rassegna stampa di martedì 22 settembre è il giorno dopo i risultati elettorali, almeno la prima tranche, poi oggi ci sarà l'analisi delle amministrative che riguardano i comuni. Diciamo che la rassegna stampa oggi sarà principalmente dedicata ai commenti perché leggendo i commenti si capisce un po' non solo il bilancio che viene dato dai giornali del risultato elettorale ma anche quelli che sono gli scenari e cercheremo di leggerne parecchi e anche direi integralmente perché sono articolati e sono anche diversi tra di loro anche se con un filo comune. Poi ovviamente leggeremo anche alcune notizie che riguardano le diverse situazioni, anche qualcosa che riguarda i partiti, poi ci avremo qualche altra notizia che riguarda la manovra economica, poi le questioni legate alla giustizia, ma insomma principalmente dedicheremo oggi la giornata a questo. Guardiamo subito i titoli dei giornali perché tendenzialmente sono abbastanza univoci nella lettura del risultato elettorale. Il Corriere della Sera dedica il titolo al governo, il voto dà respiro al governo, Bene Zingaretti, Salvini non sfonda, referendum sul taglio dei parlamentari, il 69-9 sceglie il sì, Di Maio dice un dato storico. Se guardate la Repubblica invece il titolo è Regioni, il PD ferma Salvini, i demme tengono Toscana, Campania e Puglia, Marche alla destra, Crollo 5 Stelle, Trionfo di Zaia nel Veneto, Zingaretti subito il Messe. Per quanto riguarda il referendum dice vince il sì, ecco cosa cambia, questo è sul Repubblica. La stampa stravince il sì, il voto blinda il governo Conte, come vedete la lettura di molti giornali riguarda le ripercussioni positive in questo caso per i giornali sul governo Conte, passa il taglio dei parlamentari, la Lega respinta in Toscana, il PD tiene anche Campania e Puglia, Vola a Zaia, Liguria a Toti, Marche alla destra. Domani il titolo è il declino dei populisti, vincono il referendum, perdono il paese, il giornale, anche qui è significativo che il titolo del giornale non fa sconti alla Lega, spallata fallita, Salvini non sfonda, il PD in Reggio in Toscana e Puglia finisce 3-3, Marche al centro-destra, Bundi, Zaia e Toti in Veneto e Liguria, Di Maio esulta per il referendum, 70% di sì, ma perde alle urne e subito inizia il pressing. Parlamento nuovo si va dal voto e, se volete, questo è il titolo che Libero enfatizza, Mattarella sciolga le camere, non sono più costituzionali, scontata vittoria del sì al referendum, gli italiani hanno votato per tagliare deputati e senatori, la modifica della carta va compiuta a breve per rispettare la volontà popolare, questo Parlamento è illegittimo, elezioni subito, ma vedremo che su molti giornali, in particolare l'ex Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente Merito Mirabelli, dice che invece questa è una fandonia. E il tempo, miracolo grillino, resuscitato il PD, questo è il titolo del tempo, se volete anche il messaggero la mette così, il voto rafforza il governo, la contesa sulle regionali finisce 3-3, Toscana, Campania e Puglia a centro-sinistra, il centro-destra espugna le marche, esplode Izaia e Totti, crisi lega, ipotesi Zingaretti e vicepremier. Il foglio, poi vedremo questo è l'articolo di Cerasa, un bel voto contro il partito della gnagnera, l'avvenire sì al taglio e pareggio, insomma questi sono, vi ho dato una sventagliata dei titoli per farvi capire che un po' tutti i giornali la mettono sul rafforzamento del governo. Ma io a questo punto passerei senza esituazioni ai primi commenti, comincerei dal Corriere della Sera con Massimo Franco che il titolo è Due messaggi dalle urne. Il sopravvissuto solitario delle regionali è il politico che fino a 24 ore prima veniva indicato come il capo espiatorio di una disfatta data quasi per certa. Daniello Sacrificale, bersaglio delle opposizioni e insediato dall'interno della coalizione di governo, il segretario del PD Nicola Zingaretti riemerge dalle doppie urne con le stimmate del quasi vincente dell'alleanza giallorossa. Ha perso una regione, le Marche, ma ha tenuto Toscana, Puglia e Campania. E questo politicamente e psicologicamente basta e perfino avanza per accreditare un successo, tanto più con una partecipazione superiore all'attese e alla paura del Covid. Il Movimento 5 Stelle naturalmente gioisce per il quasi 70% ottenuto dal sì al taglio dei parlamentari, con 53,84% di affluenza. Ma solo per quello è con un'enfasi tipica di chi deve nascondere l'altra faccia della medaglia dal 20 al 21 settembre. Ormai a livello elettorale naviga a confine di percentuali a una cifra, almeno sul piano locale. E quel che è peggio, per i seguaci di Beppe Grillo, il Movimento appare ininfluente per far vincere o perdere lo schieramento di governo. Prosegue a pagina 40 del Corriere della Sera questo articolo di Massimo Franco che dice per paradosso nell'unica realtà in cui hanno presentato una candidatura comune, la Liguria, Movimento 5 Stelle e PD hanno perso, come era accaduto nove mesi fa in Umbria. La promessa di passare adesso alla riduzione degli stipendi dei deputati e senatori suona soprattutto come un omaggio stanco a un populismo a caccia di argomenti facili. E anche il tentativo disperato di offrire un'unità di facciata da parte di una forza percorsa da tensioni scissionistiche potenti, Ipeana alla portata storica del risultato e in parallelo alla raccomandazione dell'attuale capo politico Vito Crimi a non commentare i risultati parziali prima che venga indicata la linea ufficiale del Movimento 5 Stelle, mostrano una discrasia vistosa. Non solo, ammettendo che le regionali per il Movimento potevano essere organizzate con un'altra strategia, il ministro degli esteri grillino Luigi Di Maio sfiora il tema della sconfitta, anticipa un'inevitabile resa di conto interna, ma per il governo l'esito è una boccata di ossigeno dopo una lunga timorosa apnea. La somma tra sia il referendum e tenuta del PD può far riemeggere Giuseppe Conte dall'assenza studiata nella quale si era immerso nelle ultime settimane, un tentativo di sottrarsi ai contraccolpi di un indebolimento non avvenuto di PD e Movimento 5 Stelle dopo che aveva invocato in vano un'alleanza tra Demo e Grillini nelle regioni. Zingaretti ieri ha ribadito che su quel patto fosse stato accettato, la coalizione del Palazzo Chigi avrebbe vinto un po' ovunque. C'è da dubitarne. In regioni come il Veneto la forza del governatore leghista Luca Zaia non era contendibile e nella stessa Liguria del patto Movimento 5 Stelle e PD il centrodestra ha prevalso anche se per l'opposizione. Per le opposizioni il bilancio è agrodolce e non amaro. Perdono vincendo. Soprattutto la Lega di Matteo Salvini si ritrova a fare i conti con il profilo di Giorgia Meloni e dei suoi fratelli d'Italia e con la silhouette ingombrante di Zaia. Il centrodestra appare vittima delle proprie ambizioni smisurate, che lo ha reso miope. Pensava di scardinare la Toscana ormai da anni rossa in modo sbiadito, finendo per mobilitare la sinistra e perfino per riavvicinare una tantum zingaretti ai renziani e in Puglia ha dato per scontata una vittoria rivelatasi più difficile del previsto. Così, pur avendo conquistato le Marche e confermato Veneto e Liguria, all'opposizione non è riuscita la spallata, ha ottenuto un'affermazione inferiore a quella che aveva accarezzato e sbandierato. L'elore politico è stato proprio quello di additare un successo schiacciante per poi ritrovarsi con un risultato più sfaccettato e per paradosso l'esito è di puntellare l'odiato governo Conte che si voleva abbattere. Le logiche locali stavolta hanno prevalso sulla politica nazionale e questo ha finito per far emergere un partito dei governatori trasversale ed emancipato dai leader di partito, anzi tendenzialmente destinato a offuscarne il primato e in prospettiva ad affiancarlo e sostituirlo. Zaia, Vincenzo De Luca, Zaia, De Luca in Campania, Giovanni Totti in Liguria, Michele Emiliano in Puglia brillano ormai di luce propria come Stefano Bonaccini e Emilia Romagna. A guardare bene lo stesso Zingaretti è arrivato alla guida del PD essendo tuttora presidente della Regione Lazio. Sono personaggi radicati al contrario di un grillismo che, non a caso, fatica a diventare proposta o alternativa e vede declinare le sindache delle due città a vetrina, Roma e Torino, che dovrebbero essere punti di partenza e stanno invece anticipando il capolinea del movimento e rendendolo un potenziale focolaio di instabilità. Così è Massimo Franco sul Corriere della Sera. Ma abbiamo anche La Repubblica con Maurizio Molinari, che è il direttore che fa un editoriale, se cala il vento del populismo, ma trovo più interessante anche perché si occupa del referendum, delle ragioni, è una delle poche analisi in cui si parla anche delle ragioni, di un risultato referendario. Io adesso è chiaro che è una sconfitta, ma vorrei fare presente sostanzialmente due cose. La prima è che soltanto un mese fa il rapporto era 90 a 10 e secondo che se voi mettete insieme il potenziale elettorale dei partiti che appoggiavano il referendum, il referendum avrebbe dovuto avere l'80% e non il 69% che ha avuto e quindi il risultato nelle condizioni date, quelle che sappiamo e conosciamo, a mio avviso è un risultato tutt'altro che sottovalutabile, ovviamente all'interno di una sconfitta. Ma a proposito poi delle elezioni amministrative vi segnalo che c'è un'intervista per quanto riguarda i partiti a Matteo Renzi sul Messaggero, che vedremo tra poco, ed è una delle poche occasioni nelle quali poter dare una lettura diversa da quella che all'unisono cercano di dare tutti i sondaggi, e cioè che Italia Viva sia praticamente morta. Qualcuno sottovalutando che Italia Viva è la prima volta che si presenta in una competizione regionale, non una competizione nazionale con, a mio avviso, dei risultati di tutto rispetto, sia in Campania dove supera il 7%, sia in Toscana dove prende il 4,5%, sia nelle Marche dove prende più del 3%, che sono risultati che vanno ben oltre i sondaggi che venivano messi in campo per quanto riguarda Italia Viva e soprattutto perché si tratta di competizioni regionali con tutta la radicalizzazione del voto che c'è stata soprattutto in Toscana. Insomma, vedremo qual è la lettura di Matteo Renzi. Ma andiamo avanti con Stefano Folli. Conte e il ruolo del socio forte. Veneto, Liguria e Marche al centro-destra, Toscana, Campania e Puglia al centro-sinistra, lasciando da parte la Val d'Aosta, considerate le premesse della vigilia, il formale pareggio e in realtà una vittoria di Nicola Zingaretti come segretario del PD. Vittoria non priva di chiari scuri. De Luca a Napoli fa storia a sé e lo stesso vale per Emiliana Bari, favorito dal voto disgiunto. Ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il centro-sinistra ha superato la prova delle regionali, permettendo a Zingaretti di passare in poche ore dallo status di politico quasi dimissionato a quello di accorto professionista che dispone di buone carte da calare sul tavolo del governo. Il governo ovviamente è sinonimo di Conte. Il presidente del Consiglio ricava dalle urne e dal risultato referendario che tiene in piedi i 5 Stelle la certezza di restare a Palazzo Chigi. Tuttavia non farà l'errore di sottovalutare le esigenze di un PD rinvigorito dallo scampato pericolo. I grillini coprono con il SIE la crescente debolezza politica che li distingue e che l'analisi dei dati nelle regioni conferma. Di conseguenza il partito di Zingaretti può da oggi definirsi con un po' di ottimismo il soso forte della coalizione. Lo è rispetto all'avvocato del popolo che avrà qualche maggiore difficoltà ad elevarsi al di sopra delle parti, secondo l'immagine prediletta, questa figura consolare della Repubblica destinata a ulteriori incarichi istituzionali. E lo è verso il Movimento 5 Stelle che non potrà sbandierare troppo a lungo il successo referendario. Non fosse altro perché il plebiscito sognato da Di Maio non c'è stato. Oltre il 30% dei votanti ha detto no, segnalando che esiste una vasta area di opinione desiderosa di salvaguardare le regole della democrazia rappresentativa nonostante il disimpegno e l'indifferenza delle forze tradizionali. Cosa sarebbe successo se alcuni partiti storici invece di affidarsi a un sì opportunistico avessero scelto di fare campagna per il no? Esatto, questo è il problema perché se voi pensate soltanto a Lega e Partito Democratico vi rendete conto che sono stati determinanti per garantire il sì e quindi la vittoria nel Movimento 5 Stelle. Ma andiamo avanti, dice ancora Folli, è impossibile saperlo ma si può immaginare che l'esito sarebbe stato diverso. In ogni caso ora il PD ha la possibilità di smentire una certa subitanza verso il Movimento Grillino. Lo può fare chiedendo a Conte in sintonia con Renzi di adottare il MES pretendendo un'agenda rigorosa per la gestione dei fondi europei, magari affidata ad un controllore di prestigio. Quanto alle riforme costituzionali è meglio non farsi troppe illusioni in questa legislatura. Sarebbe più che sufficiente un'onesta legge elettorale per non stravolgere gli equilibri della rappresentanza come conseguenza sgradita del referendum. Tra gli sconfitti si deve collocare in primo luogo Salvini. Ancora una volta dopo l'Emilia Romagna il capo leghista si è dato un traguardo ambizioso, scardinare una regione rossa e ancora una volta ha fallito. Senza contare che in Veneto la vittoria trionfale è di Zaia, presidente uscente come testimone nei dati della lista personale che ha preso tre volte i consensi andati al simbolo leghista. Non solo nel Carroccio ma in tutto il centrodestra è tempo che si inauguri un periodo di riflessione sulla strategia politica. Persino Giorgia Meloni ha dovuto arrestarsi in Puglia con il suo candidato fitto, una figura stanca con l'impronta del già visto. C'è la tendenza nel centrodestra a esaurirsi in una sorta di campagna elettorale permanente a base di comizi e messaggi social. È un'opzione che ha reso molto, ma forse adesso va modificata nel profondo anche rispetto a un'idea più liberale e meno sloganistica dell'Italia e delle sue necessità. Così è Folli sulla Repubblica. Andiamo avanti perché c'è da vedere anche Marcello Sorgi sulla stampa che in questo caso la mette in modo diverso e dice alleanza senza più alibi. La legislatura destinata a durare dice tra l'altro sorge la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari e la sconfitta del centrodestra nelle regioni in cui puntava a spodestare il centrosinistra e scuse le marche nascono da un'impressione più che da una vera ragione e si portano dietro una serie di conseguenze la principale delle quali è un complessivo consolidamento del governo. L'impressione che dovrà essere avvalorata dai dati statistici è che a votare con una fluenza imprevedibile fino al giorno prima siano andati soprattutto gli anziani a Città di Castello anche un'ultracentenaria anche in Campania mi pare una donna signora di 104 anni. La rivincita dei nonnetti infila ordinatamente fin da ieri mattina davanti ai seggi e trovandosi a farlo per la prima volta in piena emergenza Covid abbiano espresso un voto coerente con le loro preoccupazioni rafforzando Conte per quanto possibile premiandolo per la gestione della pandemia e dando all'appuntamento elettorale il valore nazionale che aveva malgrado inutilmente tutti i leader dei partiti tranne forse disperatamente Zingaretti lo avessero negato. Utile in questa chiave è stato di certo l'appello finale del Premier per il sì ma la maggior parte degli elettori che ha in somma disistima l'attuale classe politica avrebbe votato lo stesso per la riduzione dei deputati e senatori giudicando più semplice e più lineare il taglio rispetto alle molte convincenti argomentazioni per il no. Scrive Sorgi che prosegue poi a pagina 31 dove andiamo rapidamente che dice all'interno di un quadro politico che rimane confermato e potrebbe essere consolidato se solo gli alleati della coalizione giallorossa lo voressero e fossero in grado di realizzarlo non mancano tuttavia le novità. Zingaretti dato per morto alla vigilia è resuscitato riuscendo a salvare Toscana e Puglia chiudendo la partita con un 3 a 3 potrà legittimamente brindare mentre i suoi compagni preparavano un congresso per farlo fuori. Zinga non si è risparmiato e alla fine è stato premiato. Dietro lui anche Renzi tira un sospiro di sollievo per la Toscana anche se occorrerà vedere le percentuali finali del suo partito. Meno invece per la Puglia perché la candidatura di Scalfarotto puntava a far perdere Emiliano e a dimostrare l'indispensabilità di Dalia Viva e in conclusione ne certificherà l'irrilevanza. Tra i 5 stelle Di Maio è il solo che possa davvero cantare vittoria per l'affermazione del sì mentre le graduatorie locali che vedono ovunque il movimento solo piazzato e con percentuali modeste confermano che il rifiuto dell'alleanza con il PD a livello locale è stato inutile. La battaglia contro candidati governatori come Gianni e governatori in corsa per la riconferma come De Luca ed Emiliano sebbene legittima date le radici contro tutto e tutti dei grillini in questo contesto si è trasformata in attacco al governo nazionale. Avrebbe dovuto rifletterci la candidata governatrice pugliese La Ricchia, contraria all'accordo con il PD anche dopo che la piattaforma russosa si era espressa a favore. Ma soprattutto un supplemento di riflessione avrebbe dovuto di farlo Di Battista che ha preso un'altra musata e ha perduto peso rispetto all'ormai prossima resa dei conti interna del movimento negli stati generali. A destra tutto è in discussione. La sconfitta della Lega in Toscana è innanzitutto di Salvini così come la vittoria in Veneto essenzialmente di Zaia. Insidiato dall'interno, mortificato appunto dal plebiscito per il Doge Veneto, al centro di un complicato dedalo giudiziario sfruculiato dall'esterno dalla Meloni, vittoriosa nelle Marche senza però centrare l'obiettivo del sorpasso e neppure del tamponamento di Fratelli d'Italia la Lega. Il capitano vede la sua stella calare anche se i tempi di una sua eventuale defenestrazione potrebbero essere più lenti di quel che si crede. I leghisti vogliono godersi lo spettacolo del suo declino. Resta da dire di Berlusconi, sconfitto in campagna e al referendum in cui si era in pratica schierato con il no. Il cavaliere deve la sua non completa eclissi alla commozione generata dalla sua malattia per il gruppo sempre più ristretto degli affecianados. Silvio resta imbattibile dal virus e dunque da un voto sbagliato. Non altrettanto il centrodestra che prima di insistere per il gruppo di per giocarsi la partita della rivincita dovrà pensarci su un bel po'. Questo è quello che scrive Marcello Sorgi sulla stampa. Vediamo ora Stefano Feltri sul domani. Cosa scrive Feltri? Doveva essere il voto che spaccava il Paese e il Governo, quello per il referendum ed elezioni regionali e invece un po' a sorpresa ha ricomposto entrambi. La campagna più popolista per il taglio dei parlamentari si chiude come prevedibile, stravince il sì anche se un 30% dei votanti si è opposto in un impopolare sforzo di difendere la democrazia rappresentativa. Eppure il vero risultato di questa consultazione è che l'onda antipolitica sta finendo, il taglio delle poltrone è l'apice di un fenomeno ormai esaurito. Lo si capisce dalle parole di Luigi Di Maio, non più capo politico del Movimento 5 Stelle che commenta soltanto i risultati del referendum e non quelli delle regionali come sempre disastrosi a livello locale. Di Maio se la prende con forze non meglio identificate che volevano usare il referendum per colpire il Governo o anche il sottoscritto. Scopriamo così che non era un voto per cambiare la Costituzione ma per decidere chi comanda nel Movimento che il sì serviva a Di Maio per cercare di tornare al vertice al posto del reggente Vito Crimi grazie anche alla nuova battaglia per tagliare gli stipendi ai parlamentari superstiti annunciata come il sequel di quei film che incassano bene nei primi giorni di programmazione e così con la riforma costituzionale degradata a strumento per lotte ricorrente in vista del congresso del partito possiamo considerare chiusa la fase populista dei 5 Stelle ormai avviati in un reticolo di procedure indecifrabili per le persone normali. A livello locale anche a dieci anni dal debutto i 5 Stelle non riescono a costruire una classe dirigente credibile, perdono sempre anche in Liguria dove sostenevano Ferruccio Sanza assieme al PD, restano i collettori di un voto di protesta che non mancherà mai ma poco altro. Anche l'altro blocco populista vede il finale della sua breve stagione, la candidata della Lega Susanna Ceccardi non riesce a conquistare la Toscana così come in gennaio Lucia Bergonzoni aveva fallito in Emilia Romagna, nonostante ci fosse una reale possibilità di vittoria per il centrodestra in entrambe le regioni. Il segretario Matteo Salvini non ha più nulla da promettere, ha spinto il partito all'opposizione un anno fa per preparare l'assalto finale a Palazzo Chigi, da allora non ha ottenuto un solo successo. L'espansione al sud è fallita, quella nelle regioni pure, la gestione del suo partito è oggetto di poche analisi politiche e molte inchieste penali per la gestione dei fondi pubblici. Il governatore più salviniano a Tirio Fontana e Lombardia deve ancora spiegare il conto in Svizzera con 5 milioni. In Veneto la lista del presidente Luca Zaglia ottiene oltre il 51%, quella ufficiale del partito salviniano meno del 15%. L'amministratore locale che non ha ottenuto l'autonomia promessa al tempo del referendum del 2017 ma ha gestito in modo efficace la pandemia surclassa il segretario nazionale che ha abbandonato l'identità territoriale in nome delle battaglie sovraniste anti-immigrati e che sul coronavirus ha sostenuto ogni tesi e quella contraria. Forse è inevitabile che all'afflosciarsi del momento populista svanisca anche l'illusione di Matteo Renzi di tornare rilevante come campione di un establishment ostile e di compromessi fatti dal Partito Democratico per governare assieme ai Cinque Stelle. Italia Viva non esiste, ha imposto un candidato debole al centrosinistra in Toscana Eugenio Gianni che ha rischiato di perdere in Puglia schierato in Ascalfarotto con il solo obiettivo di far perdere il candidato di centrosinistra Michele Emiliano e ha preso meno del 2%. L'impronta del domani si è vista non solo perché Stefano Feltri ha lavorato molto al Fatto Quotidiano ma anche perché molti dei giornalisti, in particolare quelli dell'economia non solo da lì vengono, ma c'è anche bisogno da parte dei giornalisti di un minimo di rispetto nei confronti non tanto di Matteo Renzi ma delle decine di migliaia di persone che nelle diverse regioni dove si è andata a votare hanno votato portando delle percentuali che per esempio in Campania sono del 7%, in Toscana sono del 4,5%, è vero in Puglia è andata diversamente, nelle Marche sono del 3%, ecco diciamo non è che per Stefano Feltri possono esistere soltanto ed essere rispettati i partiti che prendano il 30% perché la democrazia è fatta anche di cose diverse e soprattutto diciamo non sottovaluti Stefano Feltri che questo era il primo test elettorale per Italia Viva, era un test elettorale non nazionale nelle regioni e che io penso che avrà delle belle scoperte perché se questo è il punto di partenza per Italia Viva io penso che ci sia ancora molta strada da fare, soprattutto se le cose continueranno così e se il saldo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, la saldatura tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico andrà avanti? Beh io penso che il ragionamento che si fa ormai da tempo sull'esigenza di creare una opzione, una costituente riformista che si ponga equidistante dai due tipi di populismi magari lo porterà a dover fare delle considerazioni diverse e dare il giusto rispetto a delle percentuali che non sono certamente le percentuali del 40% ma che sono percentuali che non consentono di dire come scrive nell'occhiello che Renzi e Salvini, dire che Salvini è cancellato dal voto diciamo già la dice lunga sulla credibilità di queste parole, ma andiamo avanti. Cosa resta? Un Parlamento più piccolo dalla prossima legislatura ma soprattutto si afferma una politica diversa da quella della stagione populista, una politica placida come uno dei vincitori, il segretario del PD Nicola Zingaretti, pragmatica come Luca Zaia, molto più coerente con l'eloque ferragostano dell'avvocato Giuseppe Conte che con la scorribande social di Salvini o dei 5 Stelle. Conte è un altro che esce tranquillamente da quelle elezioni, rimarrà a Palazzo Chigi e ancora parecchio. Con il risultato del referendum archiviamo il declino il decennio dell'antipolitica, ora possiamo tornare a occuparci di cose serie come la gestione dei fondi in arrivo da Bruxelles, la pandemia che sta per registrare la milionesima vittima a livello mondiale. Questo è Stefano Feltri su il domani, andiamo avanti perché ci sono altre cose sicuramente da leggere, per esempio Sallusti sul giornale che la mette così, la salvezza dei tacchini. Se dici che vincerai 6-0 e poi pareggi 3-3 è ovvio che il risultato s'ha disconfitta. Dalle urne delle regionali non è infatti arrivata la spallata alla sinistra che Salvini aveva annunciato. Il PD si tiene Toscana, Puglia e Campania e c'è delle marche al centrodestra che si conferma trionfalmente in Veneto e agevolmente in Liguria. Siamo quindi al paradosso che una ulteriore crescita nel paese dei governi regionali di centrodestra, solo due anni fa erano 13-7 per la sinistra, oggi sono 15-5 per il centrodestra, passa oggi per essere un mezzo fallimento. E lo stesso si dica per l'annunciata vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Solo poche settimane fa nessuno avrebbe scommesso che no, e questa è vera ragione Sallusti, avrebbe potuto superare come è accaduto la ragguardevole quota del 30% e col senno di poi, se Salvini e Meloni avessero avuto un po' più di coraggio invece di consegnare la vittoria a Di Maio, l'esito sarebbe stato probabilmente opposto. L'elezione di ieri dicono altre due cose. La prima è che i 5 Stelle ormai sono un partito elettoralmente debole e ben lontano dai fasti di due anni fa. La seconda è l'assoluta marginalità del partito di Renzi, che si è dimostrato sia in Puglia sia in Toscana irrilevante per le sorti del centrosinistra. Ma quel che per noi conta sono i segnali che arrivano dal centrodestra. Le ambizioni di Salvini non trovano conferme nelle realtà. La Lega non è pronta a sfondare nelle roccaforti rosse né a consolidare il suo consenso al Sud e la corsa della Meloni, sua la vittoria nelle Marche, per la prima volta segna un passo falso con quello del suo candidato Raffaele Ficchi in Puglia. Il combinato disposto di tutto quanto sopra porta a una sola conclusione. Per i prossimi due anni, cioè fino alla scadenza naturale della legislatura, nulla cambierà nel governo del Paese o almeno non accadrà nulla di significativo, il che non propriamente è una bella notizia. Trovo infatti assai improbabile che il Parlamento, preso atto del risultato referendario, sia l'autosciolga come sarebbe logico e corretto. Avete mai sentito Tacchini chiedere di anticipare il Natale? Questo è Sallusti che cerca un po' di barcamenarsi perché anche per Forza Italia che non viene citata le cose non sono andate particolarmente bene. Andiamo avanti perché c'è Bekis sul tempo, vedete che stiamo dando anche lettura ovviamente del taglio di direttori di giornali di opposizione. Dice Bekis la spallata del centrosestra non è riuscita, o meglio è riuscita solo in parte. C'erano quattro regioni rosse da una vita e due sono restate tali. A inizio anno l'Emilia Romagna, ieri la Toscana, le altre due sono state conquistate, l'Umbria l'autunno scorso e le Marche ieri. E sono stati rieletti tutti i governatori uscenti con veri e propri plebisciti, Luca Zai in Veneto, Vincenzo De Luca in Campania, Giovanni Totti in Liguria e Michele Emiliano in Puglia. Le attese della vigilia, e ora possiamo dirlo anche i sondaggi, erano decisamente migliori per il centrodestra e il colore rosso sembrava destinato a stingersi non poco. Così non è stato, insieme alla forza personale di alcuni governatori uscenti come De Luca ed Emiliano, qualche responsabilità nel centrodestra c'è, la bocciatura in Campania e in Puglia è stata sonora. Ma è accaduto qualcosa altro che ha rianimato quel colore rosso che dalla stragrande maggioranza degli italiani da una vita avrebbe dovuto essere cancellato. Basta rileggere in fila la storia politica di questi anni. Quando si votò per le politiche del 2013, tre elettori su quattro dissero nell'urna che non volevano in Italia tuttinta di rosso. Ma la legge elettorale era quella che era e un voto su quattro bastò al PD di Pierluigi Bersani per conquistare Palazzo Chigi e il governo del paese. La legge di cui parla Begis però non lo dice, l'ha fatta il centrodestra e Berlusconi e la Lega con Calderoli, il famoso Porcellum. Vabbè. Con un voto su quattro divenne premier Ricoletta che fu spodestato da lì abbastanza rapidamente da un regolamento di conto interno al PD, quello che portò Matteo Renzi al posto suo. Altri sberloni degli elettori, via Renzi a Palazzo Chigi, sempre un PD, Paolo Gentiloni. Cinque anni di governo su un mandato di un italiano su quattro, raro vedere una cosa così in democrazia. Poi finalmente la parola è tornata agli elettori che nel 2018 alla domanda volete ancora il PD a Palazzo Chigi? Hanno risposto con la più sonora delle pernacchie. Grazie a quel risultato elettorale avevano sperato di non dover morire rossi, come un tempo si diceva, dei democristiani. Le elezioni le vinse il Movimento 5 Stelle che si unì per fare un governo alla destra, alla Lega di Matteo Salvini. È durato poco più di un anno ma per i grillini è stata davvero l'era delle vacche grasse. Si erano presentati agli elettori proponendo il reddito di cittadinanza e grazie a Salvini lo hanno fatto diventare legge. Poi avevano proposto la riforma della legge Fornero e con Salvini è diventata legge. In programma avevano proposto la non modifica del job dat di Renzi e la Lega turandosi il naso gliel'ha fatta passare. Poi il taglio dei vitalizi, grazie alla Lega è stato approvato negli uffici di presidenza della Camera. Il taglio dei parlamentari, per tre volte il PD disse no ma passò grazie a Salvini e Giorgia Meroni che peraltro lo hanno votato anche la quarta volta. Anche la spazia corrotti, altra bandiera, passò con il voto favorevole di Salvini che molti dubbi aveva sulla prescrizione. Con il governo giallo-verde i grillini hanno portato a casa tutto quello che volevano. Poi inspiegabilmente il Movimento 5 Stelle impazzito ha resuscitato quel colore rosso che sembrava messo ai margini per un bel po' di anni. Ha rimesso sulle poltrone di governo che gli italiani avevano loro tolto quel PD che viaggiava ormai a vista sul suo barchino da naufrago. Lo hanno salvato con la respirazione bocca a bocca, hanno ceduto loro poltrone importanti e da quel momento stesso il Movimento 5 Stelle non ha più toccato palla. In un anno non è riuscito a portare a casa nemmeno la più insignificante delle sue bandierine. Zero assoluto. Però è stato dissanguato dai nafraghi fatti salire a bordo a cui hanno offerto l'infa vitale, un travaso di voti, in ogni occasione che si è presentata. E così, proprio quando sarebbe stata possibile una svolta nella storia politica d'Italia, la classe dirigente del Movimento 5 Stelle ci ha fatto ripiombare nel peggiore degli incubi, ci toccherà morire rossi perché di riffa o di raffa quelli delle altre portrone non scollano mai. Bel regalo che avete fatto agli italiani, signori Ghilini. Ora, va detto a Begis che tutte le cose che cita, che Salvini gli ha fatto fare, sono delle cose, diciamo, inguardabili e lo erano prima e lo sono state anche dopo. Segnalo che, per esempio, sul tema della prescrizione, che Salvini gli ha fatto portare a casa, ma poi il PD gli ha garantito, per esempio quando c'è stato tutto il dibattito all'interno della maggioranza. Insomma, un po' tirato, direi abbastanza tirato questo editoriale di Begis. C'è Campi sul messaggero. Leggo solo perché è uno dei pochi che si occupa, diciamo, di analizzare i dati del referendum e quindi leggo la prima parte, quella riguardo al referendum, non quella sulle amministrative perché, diciamo, non è molto diversa dalle cose che abbiamo letto. Ma scrive Campi. C'era preoccupazione per il numero di italiani che sarebbe andato alle urne e per come si sarebbero svolte le operazioni di voto. L'astenzionismo ottenuto non c'è stato e nei seggi, tranne le molte defizioni di scudatori subito rimpiazzati, tutto è filato liscio. Segno che il virus fa paura, ma non al punto da tenere la gente chiusa a casa e da inceppare la macchina statale. In molti votanti al referendum, quasi il 54% degli eventi diritto, anche se in questo caso non c'era un problema di quorum, si dirà che siano dipesi dall'effetto traino del voto amministrativo, che ha coinvolto regioni importanti, e dallo scontro nelle ultime settimane che si era acceso sull'oggetto della consultazione col fronte del no, che era divenuto particolarmente attivo. Vero, ma deve aver contato molto anche la voglia di partecipare, di prendere parte nei giorni del nostro addio a un'estate da dimenticare ad un momento di vita collettivo, un segnale di vita e condivisione proprio mentre si vanno addensando i timori per una seconda ondata del contagio. Prosegue a pagina 14 Campi, che dice che ha vinto il sì in modo schiacciante, quasi il 70%, avremo dunque molti meno parlamentari e minori spese per l'erario. Una svolta epocale nel commento dei dirigenti del Movimento 5 Stelle che ha fortissimamente voluto questa riforma costituzionale trascinato dalla sua parte, all'epoca del voto parlamentare, la gran parte delle forze politiche desiderose di non lasciare ai soli grillini un argomento di propaganda tanto efficace. In realtà non è stata quella di ieri la vittoria di un partito, ma il punto di arrivo inevitabile di almeno tre decenni di invettive contro il parassitismo della casta. Tagliare, risparmiare, ridurre, mandare a casa, speriamo che quella litania non diventi a furia di ragionare così una democrazia come quei prodotti cinesi che costano poco ma poi si rompono subito e funzionano male. In realtà i fotori del Sì hanno sempre detto, per nobilitare le loro battaglie e oltre la facile demagogia populista, che la riduzione dei parlamentari era solo il primo passo di una nuova strategia, il riformismo dei piccoli passi dopo che sono falliti nei decenni tutti i tentativi della grande riforma. Vedremo ora quel che accadrà, quale sarà il prossimo passaggio modernizzatore, una legge elettorale proporzionale necessaria per garantire la governabilità del Paese, ha detto a caldo un raggiante Luigi Di Maio. Nei manuali di scienza politica un simile nesso tra proporzionale e governabilità nessuno l'ha mai argomentato a ragione ai campi. Speriamo che coloro che si propongono come gli innovatori della nostra Costituzione sappiano inventarsi nei prossimi mesi qualcosa di meglio. Ovviamente con un simile voto al governo non accadrà nulla, anche se probabilmente nulla sarebbe accaduto anche con un voto ribaltato. Ciò che lo avrebbe tenuto comunque in vita, senza dover ricordare ogni volta che questo esecutivo è nato soprattutto per scegliere il nuovo capo dello Stato nel 2022, è la grande partita sui fondi europei, miliardi di euro da spendere che servono ovviamente all'Italia per ripartire, ma che politicamente significano anche consenso e clientele. Quale governo vi rinuncerebbe a costo di imbullonarsi alle poltrone? A proposito, ora che il voto è passato, ci fate sapere quali progetti si vorrebbe realizzare con questi soldi? Il Premier Conte può a questo punto rompere il silenzio che si è imposto nelle ultime settimane. Non c'è più da apparire imparziale rispetto alla contesa in corso, c'è da rimboccarsi le maniche per affrontare i problemi del Paese. Con l'Election Day si sono volute mischiare mele e patate. Dopo il referendum tocca dunque commentare le regionali per le quali gli italiani hanno votato sulla base di motivazioni ovviamente diverse da quelle utilizzate per il primo. E poi parte con le analisi delle amministrative. questo è Campi sul Messaggero. Chiudiamo con Cerasa sul foglio che, diciamo, io voglio bene a Cerasa, ma veramente diciamo io capisco la scelta della difesa del governo, ma qui ormai siamo arrivati quasi alla scelta della difesa del PD grillizzato. Dice Cerasa, il referendum vince il sì, in Puglia resiste Michele Emiliano, in Toscana si afferma Eugenio Gianni, in Campania trionfa Vincenzo De Luca, in Veneto spopola Luca Zaglia, in Liguria si afferma Giovanni Toti, le marche vanno a Francesca Quaroli. Nel governo si rafforza il PD, nell'opposizione si indebolisce il salvinismo e nell'attesa di conoscere i dettagli numerici del voto alle regionali ci sono già alcune considerazioni di fondo che si possono fare sull'esito di queste elezioni. E se si ha la pazienza di andare oltre il risultato del referendum e oltre il risultato delle regionali, ci sono buone ragioni per dire che la politica degli estremismi esce indebolita da questa doppia tornata elettorale. La prima ragione ha a che fare con il referendum costituzionale. Il referendum vinto dal fronte del sì non era un referendum sul governo e non era neanche un referendum sul grillismo. La verità è che la vittoria del sì al taglio del numero dei parlamentari, circa il 70%, è una buona notizia in primo luogo perché permette di scongiurare un pericolo che l'Italia avrebbe corso in caso di vittoria del no. L'irriformabilità delle nostre istituzioni politiche anche per aspetti minori. Ma Cerasa, ma che dici? Vedremo le grandi riforme Cerasa che si schiuderanno grazie a questo voto che c'è stato sul referendum. Dunque, in questo senso è incoraggiante che le istituzioni italiane non siano da considerare del tutto irriformabili. Una terza vittoria di fila del no ha un referendum costituzionale dopo le vittorie del no del 2006-2016 avrebbe messo probabilmente una pietra sopra ogni tentativo di riforma istituzionale. In questo senso è incoraggiante che la maggioranza ieri abbia ricordato che il taglio del numero dei parlamentari non è un fine ma un mezzo per rendere più efficace il Parlamento. E vabbè, andiamo avanti. Ma su questa scia è incoraggiante anche ciò che emerge con nettezza delle elezioni regionali. Dato numero uno, il ridimensionamento della leadership salviniana. E vabbè. Dato numero due, il ridimensionamento della centralità dell'alleanza strutturale tra PDS e Movimento 5 Stelle. In Liguria PD e Movimento 5 Stelle vanno insieme e perdono come avevano perso già in Umbria e in Campania e in Toscana. Il centro-sinistra è riuscito a vincere anche senza allearsi con il Movimento 5 Stelle. Dato numero tre, il ridimensionamento di ogni progetto alternativo a quello del PD. In Puglia la lista di tutti i centristi da Italia Viva ad Azione è intorno al 3%, mentre l'alleanza con il partito di Renzi in Toscana è stata importante anche se non decisiva per il PD nella vittoria contro la Ceccardi. Dato numero quattro, la presenza dello scacchiere della politica di un bipolarismo di fatto che vede il PD il perno unico dall'alleanza contro il centro-destra. Ma non è il perno unico dall'alleanza contro il centro-destra, perché il PD c'era già il 20% e la percentuale del PD è la percentuale che il PC ha avuto sostanzialmente sempre nel nostro paese e che ne ha determinato l'irrievanza dal punto di vista del governo e della governabilità del paese. Il perno unico dell'allanza contro il centro-destra è attrazione populista. Dato numero 5, il possibile ribaltamento dei ruoli tra il PD e il PD. Sfugge a Cerasa che il PD è partito di maggioranza relativa al governo. Insomma, questa è l'analisi di Cerasa, ve la consegno, ma non si può essere sempre d'accordo. Bene, a questo punto io direi di chiudere la rassegna con una carrellata di titoli, soprattutto che riguardano l'analisi dei dati e via dicendo. Veniamo subito sul referendum. Il referendum Repubblica se ne occupa a pagina 12 e il titolo, se riusciamo ad andare a pagina 12, siamo riusciti vincersi via 345 parlamentari. Il no prevale tra chi vota il PD. La riduzione degli eletti passa con quasi il 70%. Una valanga di consensi nelle regioni del sud, il record in Molise e Calabria. Una bocciatura arriva invece dai centri storici delle grandi città. I 5 stelle esultano, Meloni chiede lo scioglimento dell'attuale Parlamento. questa pagina 12 con Emanuele Lauria. E poi se volete nella pagina 13 invece c'è domande e risposte alle quali risponde il giornale, con leggi, legge elettorale, elezioni del Presidente, ecco i nodi dopo il taglio. E vedremo queste famose riforme di cui parla Cerasa come usciranno fuori. Questo sul Repubblica. Poi sulla stampa segnalo a pagina 5 un'intervista a Carlo Calenda «Nessuno credeva al 30% di no, sarò il portavoce degli scontenti del PD, il leader di azione in Puglia governa un satrapo che compra consensi con le assunzioni». Alessandro La Barbera lo intervista. Ancora per quanto riguarda il referendum, segnalo il giornale, nelle pagine 4 e 5, sì al referendum 70%, gli italiani licenziano 345 parlamentari. Allora adesso si voti, scrive Massimiliano Scafi. E invece poi a pagina 5, Augusto Minzolini dice «assicurazione giallorossa, si va avanti fino a 2023, blindati col proporzionale». Questo è quello che ci dice il giornale a proposito delle conseguenze del voto referendario. Poi, come vi ho detto, c'è Libero, vi ho letto la prima pagina, ma le pagine successive non sono diverse, in particolare tagliati gli onorevoli, dice a pagina 2, Fausto Carioti, Montecitorio e Palazzo Madama non sono più rappresentativi, non esistono motivi tecnici per impedire le elezioni, legge elettorale e nuovi collegi si fanno in fretta e addirittura Paolo Becchio e Giuseppe Palma scrivono «da oggi sono abusivi, i parlamentari delegittimati vogliono incollarsi alla portrona, chi era stato eletto nel nome della lotta alla casta adesso usa questo risultato per restare aggrappato allo scranno che diceva di voler eliminare». Che ipocrisia! Questo in parte è vero, ma riguarda quelli, però a proposito della legittimità di questo Parlamento, vi segnalo sul messaggero a pagina 13, c'è un'intervista con Cesare Mirabelli, che è l'ex presidente della consulta, che dice «le Camere restano legittime, elezioni soltanto, con una crisi». L'ex presidente della consulta dice «la riforma entrerà in vigore e la prossima tornata in altri paesi». Un taglio così sostanzioso è scattato assieme a rivoluzioni istituzionali». Vabbè, questo è quello che ci dice il messaggero. Passiamo a questo punto, diciamo invece, ai partiti e vorrei cominciare proprio da… anzi no, prima vediamo come i giornali posizionano Conte. Il Corriere della Sera, pagina 3, Conte rivendica il risultato, durerò fino al 2023, ma gli alleati già preparano il pressing sul Palazzo Chigi. È Francesco Verderami che scrive «la disputa sul programma potrebbe aprire una revisione degli assetti di governo dopo le presidenziali americane». Qui siamo, l'asticella è spostata adesso alle presidenziali americane. Ma come vedete, diciamo, Conte che è stato silente, poi silente per modo di dire, perché in realtà sul referendum ha più volte ripetuto la sua posizione durante la campagna elettorale, adesso rivendica in qualche modo il risultato, ma va sempre un po' così. Se volete invece la posizione di Repubblica su Conte, dice a pagina 11 Tommaso Ciriaco «Conte ora guarda avanti, vuole evitare il rimpasto, ma accontenterà i dem». Il Premier chiama Zingaretti e gli conferma il suo sì se decidesse di entrare al governo. Questa è la notizia che ci dà Repubblica, anche la stampa si occupa di Conte, lo fa a pagina 3, Conte frena, il rimpasto ora non serve e spinge per l'alleanza tra Dem e Movimento 5 Stelle. Il Pindì incalza sul tavolo di Palazzo Chigi, le spine, i decreti sicurezza emmessi, i timori per le fibrillazioni in casa. Grillina è quello che ci dice Lario Lombardo nel retroscena sulla stampa, ma anche il messaggero nella pagina 3 si occupa del Presidente del Consiglio, ma nel rapporto con i due leader dei due partiti principali della maggioranza. Zingaretti e Di Maio vice il nuovo incubo di Conte. I due alleati si rafforzano e ora sono pronti ad andare in pressing sul Premier. Braccio di ferro fra Palazzo Chigi e Dem per la gestione dei fondi del recovery. Bene, a questo punto visto che siamo sul messaggero ci occupiamo di Italia Viva, poi passiamo agli altri partiti. Ora tenete conto che il quadro, ma questo l'avevamo già visto ieri, ieri era quasi commovente Alessandra Sardoni, a cui io voglio bene anche a lei, che alla 7 mentre intervistava Nardella con la vittoria di Gianni, aveva il sindaco di Firenze. Insomma, in un contesto credo che per 4 volte di seguito ha rivolto a Nardella la domanda, ma sostanzialmente Renzi è morto, Renzi è sparito, come giudica il risultato di Renzi? Cioè sembra che nonostante tutto quello che sia successo, che obiettivamente è più imponente sotto tutti i punti di vista di Italia Viva e di Matteo Renzi, la concentrazione di tutti è ancora una volta quella di cercare di annientare anche la politica di Italia Viva e di Renzi, che ha un ruolo all'interno del governo, ma certo non è più il ruolo che aveva quando era Presidente del Consiglio, evidentemente, ma lo dico, chi mi conosce sa che non sono così di parte, però è talmente plastico che c'è il terrore che questa esperienza di Italia Viva, che il contributo che Renzi può dare alla politica del nostro paese riprenda a crescere, che bisogna segharlo appena, su qualunque cosa. E ieri la sette in questo era clamorosa proprio, nel senso che era un continuo domandare, cioè con tutte cose decisamente più importanti, che cosa significava la sconfitta e la morte di Renzi. Bene, politica ovviamente. Allora vediamo, perché Corriere della Sera, pagina 20, Italia Viva c'è, salvo ancora Conte, Renzi esulta, però nelle regioni non è decisivo. Non è decisivo. Insomma, schifiamo pure i voti di decine di migliaia di persone, il 4,5% in Toscana, il 7,2% in Campania e non è decisivo per cosa? Per esempio, per cercare di mettere in campo un'opzione politica che non sia quella che corrisponda alle dichiarazioni di Michele Emiliano, secondo il quale, poche ore prima del voto, faceva uscire una card dicendo voi votate chi vi pare, l'importante è che date poi, per i partiti, l'importante è che poi date il voto a me, votate destra, sinistra, 5 stelle. Ecco, per me, questo, per me ovviamente, è il segno non solo di una politica che è totalmente degradata, ma anche dell'esigenza di mettere in campo, ancorché probabilmente è ancora con difficoltà, ma ha una prospettiva politica per tutti quelli che si riconoscono in un modo di fare politica ancora prima di una sostanza che è molto diversa e distante da quello di Emiliano, da quello dei Grillini e via dicendo. Bene, a proposito di Italia Viva, poi così l'aveva messa a correre la sera, se volete Repubblica, come la mette Repubblica, a pagina 7, la mette così, Giovanna Casadio, il bottino magro per i renziani, ma non cambiamo strada, il partito dell'ex premier, questa è Repubblica. Vi sto facendo leggere i titoli, vi leggo i titoli dei giornali, così poi vi leggo l'intervista che Renzi ha rilasciato al messaggero. La stampa come interpreta il risultato di Italia Viva, lo vediamo a pagina 6. Renzi tira il fiato, si è vinto così anche grazie a noi, andiamo avanti con questa maggioranza fino al 2023, erano tutti pronti a darmi la croce addosso. Italia Viva è un bambino vivo e vegeto, ho temuto Salvini, festa in piazza a Firenze. Dice ancora Renzi, la verità è che a un certo punto me la sono fatta addosso, da lì ho iniziato una campagna da gregario, cosa vera tra l'altro perché chi ha seguito ha visto quanto Renzi si sia speso in questa campagna elettorale, in particolare per appoggiare Gianni. Va bene, insomma, per dirvi, c'è un giornale come l'avvenire, ecco che diciamo tendenzialmente non ha esigenza proprio di schierarsi in un determinato modo, la mette così, Italia Viva, i risultati deludenti, ma Renzi dice noi decisivi. Bene, allora, fatto tutto questo panorama di come i giornali interpretano il risultato di Italia Viva, leggiamo l'intervista che Marco Conti fa a Matteo Renzi. Dice, grazie a Eugenio Gianni, candidato gentiluomo per la bellissima e meritata vittoria, la Toscana oggi sorride, Matteo Renzi si affida ai social per tirare un sospiro di sollievo, pericolo scampato anche per l'ex presidente del Consiglio che in Tostana ha costruito le sue fortune politiche. I complimenti sono però non solo per Gianni, neopresidente della regione Toscala, ma anche per Vincenzo De Luca. E se la candidatura di Gianni Renzi l'ha imposta un anno fa, poco prima di lasciare il PD, con De Luca l'intesa è datata. Complimenti e buon lavoro a Vincenzo De Luta, scrive Renzi su Social. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico, anche per lui un grande vittoria. Bravo, sprizza gioia da tutti i pori l'ex presidente del Consiglio e il leader d'Italia Viva, che non poteva uscire dalla competizione elettorale con una sconfitta che sarebbe pesata non poco, viste le voci iniziate a circolare nei giorni scorsi del PD toscano. Senatore Renzi, soddisfatto del risultato del voto? Scrive e domanda Conti. Assolutamente sì, sono molto felice perché ho fatto tutti i comuni, uno per uno, anche i più piccoli, e ho fatto la campagna elettorale non per Italia Viva, ma per Gianni, quello che vi dicevo prima. Eugenio è una bravissima persona, la vittoria se l'è meritata, ha scoperto alcuni social un po' tardi, ma va bene così, anche perché c'era già chi stava mettendo le mani avanti. Cioè, domanda Conti, erano pronti a gettare la croce sul renziano candidato ed invece è andata bene a tutti, tutti sono contenti. La Toscana salva il governo, con la vittoria in Toscana, si salva Nicola Zingaretti e si salva Giuseppe Conte. Il resto non conta, domanda Conti? Scusate. Il fatto che in Puglia abbia vinto Emiliano e non fitto è importante per la Puglia, non per il governo, risponde Renzi. E Salvini? Risponde Renzi prende un'altra musata. Diciamo che San Matteo si festeggiava ieri, nota di redazione, ha molto lavorato bene. Solo tre o quattro giorni fa la mia regione sembrava persa. Salvini cercava la rivincita del papete, ma gli è andata male anche stavolta, la seconda in poco più di un anno. Ancora dice Conti, quando c'è stata la svolta, risponde Renzi, c'è stata una scossa finale negli ultimi giorni, Italia Viva è stata determinante. Sono soddisfatto perché alla prima elezione siamo decisivi e per la seconda volta in due anni salviamo Conte. Che cosa è accaduto negli ultimi giorni? Chiede Conti. C'è stata una mobilitazione, la Toscana ha fatto come l'Emilia Romagna e non come l'Umbria o le Marche. Inoltre noi di Italia Viva, nel mezzo del campo, abbiamo dato il nostro contributo spostando un po' di gente. Però ammetto che negli ultimi giorni ho avuto un po' di timore, anche se dalla Leopolda in poi siamo partiti a tappeto con la campagna elettorale. Ho girato una trentina di comuni negli ultimi giorni. In Cinque Stelle, ancora una volta dice Conti, non sono state impartite sia nelle regioni che nei comuni. Perché? E rispondere Enzi. Ma loro hanno il referendum. E domanda Conti. E il rimpasto di governo ci sarà? E rispondere Enzi. Noi non lo chiediamo. Invece chiedete, chiede Conti. Sono molto felice, me lo faccia dire. Sono andato ovunque e ripeto, sono pieno di gioia perché il rischio di perdere la Toscana mi stava terrorizzando. E ora? E scrive e rispondere Enzi. Adesso si apre lo spazio perché il Recovery Fund si è gestito bene e si va davanti anche con il MES. Questo è Matteo Renzi sul Messaggero. Bene, allora vediamo chiusa la partita di Italia Viva, vediamo rapidamente gli altri partiti. Il Partito Democratico, il Trionfatore, secondo molti giornali, a pagina 20 del Corriere della Sera. Zingaretti si riprende il partito. Siamo alla prima forza. Questo è il titolo dell'articolo di Maria Teresa Meli. Ovviamente su tutti gli altri giornali c'è. Notizie sul PD con un taglio molto simile. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, invece prendiamo dalla stampa a pagina 7. Di Maio prepara l'operazione ritorno, il referendum successo mio e del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la Lega, prendiamo Repubblica nelle pagine 6 e 7. Salvini perde ancora, Meloni gli ruba i volti, cresce il dissenso interno. Per quanto riguarda il Veneto, Zaia vale tre volte la Lega. Perché vinco? Io governo, non vado in giro a fare comizi. E questa risposta di Zaia, ragazzi, la dice lunga su quello che accadrà nella Lega. E poi vediamo anche Fratelli d'Italia e in questo caso prendiamo il messaggero a pagina 7 che dice la vittoria mutilata di Meloni, ma fa suo il derby con Matteo, Fratelli d'Italia avanza ovunque, lo stop in Puglia, però rinvia riequilibrio nel centrodestra, la leader all'attacco, dopo il referendum, un camere delegittimate, si torni alle urne. E questo è un po' il panorama dei partiti. Poi se volete, ovviamente su tutti i giornali ci sono notizie che riguardano i diversi presidenti di regione per passare ad altri argomenti. Sulla manovra, ovviamente tutti i giornali oggi sono pieni di notizie che riguardano le regioni e cose poco spazio ed altre cose, va dato atto al messaggero che sulla manovra, titola così a pagina 20, verso una manovra senza deficit, 20 miliardi da tagli e risparmi. Tesoro e Palazzo Chigi al lavoro sul provvedimento, nel mirino detrazioni e sussidi dannosi per l'ambiente, le risorse potrebbero arrivare da quanto uno speso dei 100 miliardi stanziati per fronteggiare la pandemia. Per quanto riguarda invece il tema giustizia legato a quello che è accaduto a Torino all'Appendino, lo vediamo a pagina 19, falso in atto pubblico, Appendino condannata, sei mesi alla sindaca di Torino, mi autosospendo dal movimento ma continuerò il mio mandato e Andrea Rossi, questo era Giuseppe legato, ma Andrea Rossi mette in evidenza un fatto, niente bis e addio alla leadership del Movimento 5 Stelle. Così la sindaca è finita in un vicolo cieco perché sappiamo che era una delle principali candidate di Di Maio agli Stati Generali per la leadership che con l'autosospensione automaticamente salta. Vi segnalo invece dal riformista per quanto riguarda il caso Palamara, a pagina 3, Paolo Comi, Palamara espulso dalla NM, vota solo l'1% delle toghe, i magistrati cacciano la mela marce, dicono no a carriere separate, no a sanzioni per i PM che sbagliano, no ai tempi certi per indagini e processi. E nel taglio basso c'è un editoriale di Sanzonetti che dice Paolo Mieri rompe il silenzio, magistratopoli irrompe sul Corriere della Sera, un articolo di fondo che parla del Palamara Gate, dell'occasione sprecata, del surreale caso da Vigo, che l'abbiamo segnalato ieri durante la rassegna stampa. Per quanto riguarda il virus ci sono poche notizie che sono simili a quelle di ieri, salvo il fatto che la situazione in Francia e in Spagna in particolare continua a essere in Inghilterra molto delicata, ma insomma a causa di questo vediamo a pagina 23 sulla frontiera di Ventimiglia che si prepara all'onda d'urto, troppa incertezza sui controlli e si dice che per quanto riguarda la Francia Covid obbligo di tamponi per chi arriva dalla Francia. Per quanto riguarda le borse che a causa di questo riprendere dei contagi sono andate a picco, lo dice il Sole 24 ore in prima pagina, borse europee in profondo rosso per paura di nuovi lockdown. Segnalo due notizie tristi, una l'abbiamo già segnalata ieri, che è la morte di Rossano sociale, alla quale segnalo in particolare il riformista oggi dedica molte pagine, oltre che un editoriale di Sanzonetti sulla prima pagina riformista, poi c'è una bella intervista di Aldo Torchiaro a Fausto Bertinotti e poi ci sono tutta una serie di testimonianze che potete vedere se volete sul riformista. E l'altra notizia molto triste è che è morta una brava persona davvero, che è Peppino Caldarola, che è stato un personaggio importante anche non solo del giornalismo, ma anche per il suo impegno politico obiettivamente, ma insomma è stato avuto molti incarichi e lo ricorda a pagina 36 il Corriere della Sera, tra l'altro, eccolo qua, Caldarola, spirito critico della sinistra, Monica Guersoni. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza, grazie a tutti.